e adesso abbiamo, vabbè, abbiamo il padrone della mattinata di Nostop News, ciao Don Antonio buongiorno anche io faccio parte degli animali ti ha chiamato padrone Don Antonio, sei il capo tu, eh, qua ah, sei il capo, senti che bella questa frase vado sull'arte questa mattina vado sull'arte sii l'artista della tua vita e non farla dipingere da altri capito? sii l'artista della tua vita pensate a voi due, voi due che siete straordinari non farla, non fatela dipingere da altri, non fatela dipingere da altri che tipo Don Mazzi vabbè, veramente un personaggio curioso il messaggio è bello però, eh direi, non far dipingere la nostra esistenza da forze esterne alla nostra, spacca cuore arriva Samuele Bersani sulle frequenze nazionali di RTL 125 a Non Stop News, in diretta sino alle nove